Una giornata di incontro che coinvolge la Prefettura, l'Anci Liguria, con la quale esiste un rapporto di collaborazione costante su tantissimi dei temi che possono interessare i comuni e abbiamo chiesto il supporto al Ministero dell'Interno di esperti e tecnici di Sogei che potessero collaborare con noi in questa giornata formativa che è articolata in due parti. Stamattina abbiamo incontrato i comuni fino a 2.500 abitanti che hanno delle problematiche comuni nell'affrontare questo grande progetto nazionale che è quello dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, che è un processo importante di modernizzazione del Paese che mette in rete tutte le anagrafi nazionali e che costituisce l'ossatura di un miglioramento della gestione informatica dei dati in tutti gli ambiti dell'attività della pubblica amministrazione. Nel pomeriggio l'incontro riguarderà i comuni superiori ai 2.500 abitanti. Nella nostra provincia sono già quattro i comuni che sono subentrati, che sono Chiavari, Rapallo, Sestri, Levante e il comune di Lavagna. Anche loro sono stati invitati oggi agli incontri perché potessero fungere da testimoni delle difficoltà, dell'impegno, delle esigenze, del percorso che hanno svolto ma soprattutto perché possono fornire anche un aiuto ai comuni più piccoli che hanno delle difficoltà per mancanza di personale a subentrare. Ricordo anche che ci sono dei contributi che potranno essere destinati ai comuni entro il 31 dicembre di quest'anno e che quindi i comuni che riusciranno a subentrare entro questa data potranno soffrire di contributi economici che sono stati messi a disposizione del governo.